ed eccoci qui partita finita fiorentina che perde contro il rapi di vienna partita davvero brutta dalla fiorentina a me modo delle vede aveva giocato aveva giocato decisivamente meglio contro il genoa mamma mia mi ha aspettato tutt'altra partita da sta fiorentina tra l'altro me l'ho giocato l'over zero e mezzo tiri del buonaventura col cazzo proprio hanno fatto un tiro in porta fiorentina due o tre massimo proprio un po meglio al secondo tempo davvero male male a me modo delle vede la fiorentina oggi e adesso adesso lo crea tutto quanto al ritorno se vogliono andare avanti quindi toccherà giocarsi l'over uno e mezzo gol della fiorentina in casa perché non posso vedere che la fiorentina esce già ai gironi a cazzo le qualificazioni da qui mamma mia davvero una bruttissima partita bruttissima proprio peggio non si poteva fare secondo me davvero male male a fiore oggi saranno un po imballati inizio campionato ma l'altra squadra andava molto molto di più anche se era di che anche loro ne hanno fatto chissà che la partita da un pareggio secondo me questa e comunque parte malissimo la fiorentina in europa in conference league e quindi adesso ha dal tutto per tutto in casa in casa loro e quindi niente veloce video su sta partita abbastanza fiacca sonno lenta un caldo che manco sto qui a dillo porca tra voglia se muori interamente e adesso famo il tifo per olimpia costo sono giocato il parziale finale 11 dell'olimpia costo almeno quello andasse in cassa gira vero una giornata già per tutto e quindi niente appuntamento alla prossima partita